Ecco, buonasera ora vediamo come fare una sorta di caccia al tesoro in cui sempre lavorando con Unity adesso vediamo con Play ci troviamo praticamente, vedete che abbiamo un mirino e possiamo andare alla ricerca quindi ci avviciniamo praticamente a degli oggetti e quando siamo sufficientemente vicini clicchiamo e vedete che l'oggetto sparisce dal mondo e ci compare in una specie di nostro inventario un inventory quindi andiamo poi a destra andiamo a prenderci anche questo lo clicchiamo e poi andiamo a prendere anche il cubo vedete che se sono tanto lontano in fondo, qui in basso vedete che mi dice distance is 6 metri io posso prendere l'oggetto solo quando sono abbastanza vicino vedete che c'è questa specie di inventario che mi insegna gli oggetti che abbiamo e quando ho raggiunto tutti gli oggetti nella piattaforma mi dice hai vinto questa è semplicemente una piccolissima cosa che serve per farvi capire come possiamo fare una raccolta di oggetti che ci compare qua su in alto e che ci permette poi di completare una sorta di quiz quindi il quiz non è soltanto una risposta a una serie di domande come abbiamo visto negli esempi precedenti ma è soprattutto la possibilità di raccoglierci di fare una quest e soltanto quando la quest è terminata allora noi possiamo considerare finito il nostro giochino ora adesso usciamo un secondo dal play e vediamo come abbiamo realizzato questa cosa quindi innanzitutto abbiamo fatto una scena come vedete questa in cui abbiamo fatto il nostro piano classico dove abbiamo messo i nostri oggetti quindi abbiamo messo un cubo questo una sfera una capsula e un cilindro poi tutti questi oggetti li ho fotografati qua li ho fatto con un screenshot un'immagine e poi li ho portati qua sotto e mi sono accertato di metterli in sprite 2D and UI in modo tale da poter poi fare i pannelli allora i pannelli sono messi tutti sotto canvas come vedete e qui abbiamo un pannello dove sotto ci sono quattro immagini sono quattro immagini che ho disattivato tutte quindi ho fatto un'immagine con la capsula in cui gli ho spostato dentro la source image questa la foto qui tra l'altro l'avevo trasferita sempre con trascina avevo poi trascinato nel cubo l'immagine del cubo e così via col cilindro che gli ho messo l'immagine in un cilindro e poi anche l'immagine della sfera da qualche parte c'era adesso non la trovo qua ma sicuramente c'è infatti se noi andiamo nella sfera qua vedete che qui c'ha source image sphere questa che cliccando ci fa vedere qual è l'immagine da qui è originata ok poi quindi praticamente ho fatto questo pannello che ho poi disabilitato e poi tutto si gioca come al solito sull'abilitazione e la disabilitazione di singoli oggetti quindi a questo punto il player era quello del primo esercizio che era quello che mi permetteva di muovermi e nel player ci ho messo alcune piccole aggiunte quindi in particolare sul ho fatto due script uno per conteggiare quando arrivavo a raccogliere tutti i pannelli e l'ho fatto in maniera molto semplice cioè nel senso che gli ho fatto uno script in cui gli passavo tutti i quattro pannelli quindi vedete che se faccio se faccio doppio clic dello script vediamo che ha un public game object i quattro pannelli e poi gli ho messo una funzioncina check object che praticamente mi dice fa qualche cosa quando tutti i quattro pannelli che gli ho messo sono tutti attivi cioè sono sono vivi all'inizio sono tutti falsi quindi questo check object sarà falso quindi questo debug log hai vinto in questo caso è molto semplice in altri casi potrebbe ad esempio cambiare scena nei prossimi a serie di video vi farò vedere come effettivamente cambiare scena a un certo punto possiamo prendere cioè quando vogliamo diciamo che l'utente ha realizzato il livello deve passare a quello successivo quindi questo script è molto semplice definisce quattro pannelli che sono le cose da cercarsi quando tutte queste quattro cose nell'interfaccia utente sono abilitate e questo viene ottenuto con questo if in cui c'è l'e commerciale che vuol dire se questo è vivo e anche questo è vivo e anche questo è vivo e anche questo è vivo allora se tutti e quattro sono stati raccolti allora in questo caso fa hai vinto torniamo un attimo qua quindi nel player però abbiamo credo di aver fatto una piccola modifica vediamo ecco sì ho messo il mirino il mirino l'avete visto prima quindi gli ho messo una public texture mirino e poi gli ho messo una private void on GUI questa in cui praticamente in ogni momento viene visualizzato una draw texture cioè praticamente viene preso il mirino che è l'oggettino che è proprio il mirino trasparente e viene messo esattamente al centro dello schermo questo perché così si può vedere a che cosa si sta cliccando un po' come in Minecraft quindi viene preso viene creato un rettangolo con esattamente centrato a metà della larghezza a metà dell'altezza dello schermo di dimensioni un po' piccolette e il cui valore è questo texture che gli abbiamo messo dentro che è il mirino ora il mirino io l'ho scaricato da questo sito itcleanpng.com ho cercato proprio mirini e fra i mirini ne ho trovato alcuni mirino ho trovato vari mirini e quello che mi sembrava più neutro era questo quindi ho scaricato questo mirino che si chiama kisspng computer png e poi questo l'ho trascinato dentro dentro il mio progetto quindi lo si trova praticamente sotto video 3 che è questo che abbiamo fatto vedete che c'è il mirino e il mirino l'ho poi trasportato in sprite poi l'ho messo con quelle istruzioni che avete visto quindi l'ho messo dentro il player dentro il player ho fatto sempre nello script del player gli ho messo la on gui che fa questo mestiere in questo modo abbiamo oltre a tutto il movimento normale del player abbiamo anche la gestione del mirino bene dopo di che l'altra cosa che ho fatto è stata quella di mettere uno script che si chiama video 3 my collision ecco questo script è uno script che si accerta quindi che quando lo metto su un oggetto ogni volta che ci faccio il click col mouse quindi c'è questo metodo che si chiama void on mouse down va a vedere la distanza fra un oggetto player object e l'oggetto medesimo e se è più piccolo di una certa distanza x che è distance che io ho posto a due metri quindi se sono più vicino di due metri all'oggetto allora se io ho cliccato sull'oggetto lui cosa fa? distrugge l'oggetto e poi gli passo anche un pannello che indica quale parte dell'interfaccia utente deve attivare deve accendere per far comparire l'equivalente in pratica io ho fatto dentro la gui come avete visto un'immagine per ogni tipo di oggetto che posso prendere e l'ho disposta adesso lo faccio vedere meglio dopodiché l'unica cosa che fa va a chiedere il player che è un oggetto della scena che si chiama appunto player va a prendersi lo script conteggio che è quello che abbiamo fatto prima e va a chiamare il check object che è quello che dice effettivamente se abbiamo raggiunto tutti se abbiamo raccolto tutti gli obiettivi in caso affermativo dice hai vinto però potrebbe fare qualcos'altro altrimenti non fa niente quindi questo è praticamente il pezzo attivo che si attiva soltanto quando clicchiamo e siamo abbastanza vicini all'oggetto questo script ha due parti pubbliche una è il pannello che deve accendere e uno è il player object che deve arrivare cioè quello che si avvicina quindi se noi andiamo sullo script vediamo che sia in cube abbiamo impostato il my collision detector e gli abbiamo messo come pannello il cubo cioè il cubo questo qui se noi lo clicchiamo vedete che si accende ed è il pannello del cubo poi in più gli abbiamo messo il player che sarebbe il chi si muove quello l'oggetto dove c'è il script di movimento e poi c'è la distanza minima che in questo caso è 4 che vuol dire che possiamo anche essere lontanucci altrimenti possiamo imporre una distanza più piccola per avvicinarsi di più comunque diciamo 4 per quello che ho visto in metri è abbastanza simile ugualio identico e la sfera che ha esattamente le stesse cose ma cambia il pannello che deve accendere e però poi ho messo il player quindi qui in pratica ho dovuto fare sempre il drag and drop cioè il trascinamento da qua verso il pannello e verso il player object in capsula abbiamo la stessa cosa ma per la capsula il player è sempre lo stesso l'ho trascinato e il cilindro cambia solo il cilindro quindi questo breve video che adesso completerò con alcuni altri video per farvi vedere come possiamo mettere diversi quiz in sequenza quindi un quiz anche fatto con un pannello oppure quando arrivo se clicco su un oggetto compare un quiz che magari mi accende certi certi elementi del mio pannello adesso qui abbiamo visto che c'è solo pannello ma potremmo averne più di uno di pannelli un pannello per ogni singolo quiz è un pannello riepilogativo che possono essere più o meno accesi in contemporanea magari anche questo discorso lo vediamo insieme tenete conto che tutti questi discorsi sulla GUI sui pannelli servono come come esperienza generale su Unity ma quando poi andremo a fare l'applicazione direttamente in VRChat probabilmente molte di queste cose non le faremo però costituiscono in questo momento un'ottima palestra per abituarsi a spegnere e accendere elementi cosa che o in alcuni casi anche farli muovere quindi questo è tutto per questo video nel prossimo ti ripeto vedremo un evolversi di scene per andare avanti in questa direzione è tutto grazie